Ben ritrovati, dunque depuratevi è l'imperativo di oggi e vi diamo qualche consiglio, soprattutto lui, il dottor Roberto Bianchi, vi dà qualche aiuto per attuare la depurazione, che non è facile. Ci siamo lasciati però con una domanda, come ci comporteremmo, ma soprattutto diciamo la verità, chi sono questi ospiti che noi non abbiamo invitato ma che si piazzano nella nostra casa, il nostro corpo? Sono ovviamente i microorganismi, noi abbiamo 10 alla 14 cellule, cioè 10.000 miliardi di cellule, il nostro corpo ha, e praticamente noi abbiamo 100.000 miliardi di batteri che coabitano con noi. Sono degli estranei ma abbiamo imparato, naturalmente parlo di batteri saprofiti, cioè di quelli eubiotici che collaborano e attivano, hanno molte funzioni importanti, producono vitamina B. Alcuni poi sono indispensabili per la vita, no? Producono vitamine B e K, tutto il complesso B, quindi sono molto interessanti, migliorano l'attività digestiva se sono presenti a livello intestinale e competono con i patogeni, per esempio sono degli antivirali naturali, quindi chi mangia per esempio cibi crudi è molto facilitato perché naturalmente mangiando cibi crudi, guarda com'è semplice la natura tante volte, mangiando una mela cruda già mi arricchisco di questa flora intestinale. Soprattutto se questi vegetali, se questi frutti sono biologici. Assolutamente sì. Perché non dobbiamo dimenticare di dirla questa cosa, lo so che sono tempi difficili per tutti, ma magari mangiamo qualche cosa di meno, ma che sia buono, la cui origine sia veramente sana. vivi, sono poi alimenti vivi, perché molti sono sterilizzati, molte insalate in busta sono morte, non avranno questi arricchimenti di cui lei ci ha parlato. Vabbè per forza di uno sterilizzarli perché altrimenti se non li vendi subito… Beh però la gente potrebbe anche imparare a tagliarseli, a lavarseli, magari a coltivarseli chi può, ma scusi la digressione eh dottor Bianchi, non volevo farle perdere il filo. Allora questi ospiti alcuni sono assolutamente indesiderati e dovrebbero andarsene, ma altri invece ci sono veramente molto utili, vivono con lui, collaborano alla nostra esistenza in sostanza. Beh tenga conto che i patogeni sono solo l'1%, quindi noi abbiamo il 99% il soggetto sano ha dei batteri molto alleati, non solo ma gli stessi mitocondri cellulari, sono degli ex microrganismi che si sono messi a collaborare, quindi gli organi della energia, della produzione di ossigeno erano una volta dei microrganismi che poi sono diventati all'interno delle nostre cellule dei collaboratori. Quindi noi siamo popolati di questi amici, non sono dei ladri, quindi non spaventiamoci, sono molto, si va proprio in un processo di simbiosi e noi dobbiamo mantenerli attivi perché se mangiamo molti cibi crudi per esempio, per esempio molti centrifugati, noi abbiamo una super vitalità direi. Chi mangia costantemente centrifugati ha dei vantaggi in termini proprio di salute oppure anche semi, sono tutti cibi vivi che sono completamente avvolti. Piccolo elenco di cosa dobbiamo centrifugare, lei ci ha già spiegato cose verdi, l'erba ad esempio. Sì, anche certamente, l'erba oppure anche, che so io, le carote, le zucchine, per esempio la zucchina è sufficientemente dolce, se viene associata con la mela è anche molto buona e diuretica perché la zucchina è molto diuretica. Se volete aggiungere un vegetale un po' più forte come per esempio il radicchio oppure una puntina di zenzero nella carota, mettete delle quantità piccoline e vedrete che assume un gusto molto particolare. E se uno invece centrifugarli li mangia e basta? È assolutamente positivo, però è chiaro che un minerale e una roccia non sono la stessa cosa, cioè se io ho la roccia e se ci estraggo, se ho per esempio una roccia con dentro un po' di oro è una cosa, ma se ho dell'oro puro è un'altra cosa. Quindi il centrifugato, questa domanda me la fanno tantissimi pazienti, ma mangiare carote non è la stessa cosa come bere del succo di carota, non è la stessa cosa, perché intanto prima di tutto il succo di carota è ricchissimo di acqua, vitamine, sali minerali, flavonoidi, provitamina A, ma poi anche le fibre solubili, le fibre solubili, la pectina, le mucillagini e tutte queste passano, tant'è vero che il centrifugato è saziante. E nella cura Gerson, per esempio, che è un medico tedesco, che ha presentato al Senato americano 5 case di soggetti tumorali che erano guariti, che ha fatto scalpore negli anni 70 questa ricerca, presentata al Senato ufficialmente, è stata riconosciuta, eccetera, ha dimostrato il contributo anche nelle malattie tumorali dell'assunzione orale di questi succhi, fino a una decina di bicchieri, nel rinforzo del sistema immunitario associato tra l'altro a tre clisteri al caffè al giorno, questa si chiama cura Gerson, e non denutrisce le persone, perché le persone si asciugano, rimangono forti, fanno un periodo magari intensivo e hanno uno stato di vitalità immunologica aumentato, hanno fatto tutti i controlli a livello linfocitario, a livello della difesa, eccetera, hanno visto che il sistema della grande difesa non viene indebolito, ma viene rinforzato da questo tipo di approcci. Va anche detto che chi entra in una clinica per approcciarsi a questo metodo, almeno io ho letto qualcosa, deve assolutamente scordarsi sigarette, alcol, non parliamo di droghe, ma anche per dire comuni saponi per lavarsi, deodoranti, cioè proprio è un togliere ogni fonte di inquinamento, perché dobbiamo pensarci che anche ogni giorno ci inquiniamo anche attraverso i profumi, i deodoranti, lo shampoo, tutte le cose che sono entrate artificialmente a far parte della nostra vita e che non sono nella storia dell'umanità sicuramente. Però questo per dire quanto sono importanti davvero i centrifugati. Se noi siamo attenti e non fanatici è molto prezioso che evitiamo sostanze chimiche perché il nostro organismo si rafforza estremamente. Certo, è la cosa straordinaria, come diceva lei, dottor Bianchi, e ti ringrazio Federica per la domanda, perché è sicuramente ballenata nella testa di molti telespettatori, perché sapere che alcune persone sono guarite, molte persone per la verità sono guarite da malattie gravissime attraverso la natura, pratiche naturali, insomma io penso che sia convolgente nel bene. Facciamo un esempio anche molto semplice, il colesterolo, di cui tutti parlano, se uno introduce questi centrifugati che sono comunque sazianti perché hanno le fibre solubili, non solo non hanno grassi, non c'è colesterolo in questi succhi, colesterolo zero assoluto, non c'è sodio, perché i vegetali di solito sono poverissimi di sodio, e moltissimo ricchi di potassio e magnesio, e poi con queste fibre solubili già quel colesterolo presente nel lume intestinale viene eliminato attraverso la bile dai sali biliari, quindi che preferirebbe un ricircolo del colesterolo ancora, le fibre solubili lo cattano come se fossero delle colle e lo eliminano con le feci. Pensate alla genialità di questi centrifugati, sembrano delle sciocchezze, delle mode oppure delle fissazioni. Ad esempio, come dicevo io oggi me lo sono fatta, classica mela carota, però potrei cominciare ad aggiungere, come lei ha suggerito, qualcosa di verde. Guardi, si può inventare di tutto, per esempio sulla carota sta molto bene lo zenzio, ho anche solo una piccolissima puntina, fresco, ed ha già quel gustino un po' più originale. L'adulto potrebbe fare tranquillamente merenda con un bicchiere di centrifugato, perché poi l'adulto, alle nostre età, non è che abbiamo bisogno di tutte queste calorie, di tutte queste merende come un ragazzino che ha fatto la partita a pallone. Io ho una vita che non faccio merende, scusate. Però il vantaggio del centrifugato è che ci idrata, cioè noi se per esempio fra le luna e le otto di sera comunque ci stiamo disidratando, se siamo in ufficio non abbiamo tempo di bere acqua, è chiaro che è importante invece che assumiamo per esempio un centrifugato che non ha solo acqua, ma dentro potassio, una montagna di sali minerali, vitamine e anche degli oligosaccaridi che poi fanno, sapete che gli oligosaccaridi sono stati dimostrati ultimamente potentissimi anche per potenziare la flora intestinale. Perfetto, questo cos'è? Questo è kiwi, questo credo che sia un centrifugato di kiwi. Sì, sono tutte, adesso ho anche foto che si trovano anche su internet. E quindi voglio dire tutte queste cose che sappiamo che mangiamo, il kiwi è indicato come centrifugato di fragole. Beh, quando sarà stagione di fragole? Gli studi sulle fragole dimostrano che sono molto associate con gli ultracentenari, le popolazioni che mangiano molte fragole. Poi ci sono le superterapie, quelle invece sono molto interessanti. Allora, parliamone di queste dieci superterapie, perché io l'ho trovato scritto in scaletta e sono molto curiosa. Ecco, intanto è interessante il fatto appunto che noi siamo in dinamismo, quindi non siamo mai fermi, il nostro organismo continua a riparare in un certo senso, è come una macchina riparatrice costante, che ha magari dei danni legati a fattori fisici, psichici, ma anche delle continue riparazioni. E il processo riparativo per eccellenza si chiama infiammazione. L'infiammazione non è un malaccidente, ma è un tentativo, tante volte magari magari mal fatto, di permettere all'organismo di riparare. E qui c'è anche una tavola che mi interessava un po' complessa, la tavola dell'omotossicosi. Di solito noi abbiamo l'idea che l'infiammazione sia qualcosa di negativo, lei ci sta dicendo il contrario quindi. L'infiammazione, se veicolata correttamente, è un fattore di grande attivazione, rubro, calor, tumor, quindi un arrossamento, un calore, una vasodilatazione locale che porta a un aumento enorme del circolo fino a 30 volte il circolo basale, permette un maggiore ricambio, sia di spazzini, quindi di ricambio, sia di fornai, quindi di fornitura di nuovi nutrimenti. Quindi dove c'è infiammazione c'è nutrimenti. C'è una superattività in sostanza. Assolutamente sì. Questa tavola molto complessa, scusate se, però fa vedere che tutte le malattie, secondo il dottor Reckweg e anche altri autori medici di grande fama tedeschi che oggi sono seguiti da almeno qualche centinaia di migliaia di medici che si ispirano a queste ricerche pubblicate alcuni decenni fa, dimostrano che ogni malattia si può classificare in sei fasi. La fase di escrezione, la prima a sinistra quella gialla, poi c'è infiammazione arancione, la fase di deposito e poi, e qui le prime tre sono quelle che facilmente da sole guariscono, per esempio una un po' di febbre, un raffreddore, una, che so io, una leggera bronchite, tante volte poi guariscono anche un'influenza, mentre invece c'è questa divisione biologica, questa fascia gialla in mezzo e dopo ci sono invece le fasi di impregnazione, degenerazione e di differenziazione. Più l'organismo è intossicato, più sviluppa patologie gravi e meno reversibili spontaneamente. E allora se noi riusciamo a fare quella che viene chiamata vicariazione regressiva, cioè a tornare indietro nella patologia, se per esempio uno ha una crisi asmatica e poi magari riesce attraverso un bagno di vapore che elimina gli antigeni, gli allergeni e rinfiamma, magari sviluppa una produzione di cataro, un'eliminazione di questo cataro tornando dall'impregnazione, asma, fino all'infiammazione, quindi torna indietro verso la salute, a sinistra c'è la salute e a destra in fondo c'è la morte, se noi riusciamo a ritornare in una fase diciamo più reattiva si dice, noi apriamo la porta alla guarigione. Quindi diciamo è molto importante questa classificazione dove ogni malattia si può addirittura collocare in un punto ben preciso ed è molto interessante, credo anche per i medici che guardano in questo momento la trasmissione, studiare e classificare le varie malattie molto conosciute all'interno di una lettura che ci permette anche di vedere a che punto è il paziente, no? Ecco, quindi io direi che se noi riusciamo, per esempio, faccio un esempio un po' stupido ma magari si può capire, vi ricordate i bambini degli anni 60 che erano sempre quella candelina al naso, no? C'erano bambini che giravano tutta l'infanzia con la candela, non so se si ricorda, oggi se ne vedono molto meno perché i bambini vengono antibioticati e quindi hanno come soppresso un po' questa reazione, magari anche i primi sintomi, tante volte anche la mamma si spaventa subito e gli dà subito il farmaco, una volta non era così e questi cosiddetti... Quindi era positivo questo scolo del naso? Sì, perché questi scoli, questi spurghi, queste attività reattive dove, diciamo, la malattia tende ad essere espulsa verso l'esterno, c'è anche la legge del dottor Ehring dall'alto verso il basso, quindi dagli organi più nobili a quelli meno nobili, dall'interno verso l'esterno, sono meccanismi molto interessanti. Io ho una carissima amico medico che lavora a Verona che quando ha cominciato una dieta naturale aveva un acne, ha fatto una dieta perfettamente naturale a base di... ha cambiato completamente l'alimentazione facendo proprio un'alimentazione naturopatica. Dopo 15 giorni la sua acne ha avuto un peggioramento, un'esfogazione tale che si è talmente spaventato che voleva smettere tutto. Posso immaginarlo? Poi si è documentato e ha capito che era in una fase proprio di escrezione, vedete, la prima là avanti. Quindi ci si deve aspettare anche una sorta di peggioramento quando ci si sta curando in maniera diversa? Sì, è un provvisorio, viene chiamato anche nelle terme crisi termale. Sapete che dopo due giorni, anche da noi, di solito dopo un giorno o due c'è magari un po' di stanchezza anche soltanto, alle terme c'è proprio quella sensazione, si equivale, terme lo sa. In seconda e terza giornata si sentono molli, c'è una reazione vagotoni, si sentono stanchi, magari viene fuori un po' di catarro, oppure addirittura un fruncolo dove metti i fanghi, ma come? Allora il fango era spurco? No, questa è una malattia che è stata esfogata dall'interno all'esterno. E direi che questo studio della tavola di hemotossicosi ha dato molta scientificità a queste ricerche perché parecchie centinaia di medici le hanno ricercate anche a livello universitario, le hanno documentate molto bene. Quindi oggi un medico può collocare proprio il... tante volte ci sono delle malattie strane, no? Però poterle classificare, vedere se siamo in una fase di deposito, di degenerazione, di descrizione, di infiammazione, ci dà un aiuto. Il passaggio successivo sono le famose dieci superterapie. Eh, infatti. Le dieci superterapie ci portano indietro, vicariazione regressiva ci portano a, in qualche maniera, a ringiovanirci e a renderci più reattivi, no? Dicevamo anche l'altra volta il bambino che sta benissimo, poi a un certo punto si acquatta un attimo, gli metti la mano sulla fronte a 39 di febbre e suda, suda, suda e magari dopo tre ore riprende a giocare e gli è passato. Questo è il soggetto naturopatico sano, quello che ha una malattia acuta, di breve durata, autoguarentesi e noi dovremmo essere tutti così. Pensi che gli Unza, il popolo della salute che aveva gli ultracentenari sull'Himalaya, si amavano solo di quelle malattie lì, influenze, raffreddori, catarri, bronchiti, che so io, ma passeggeri, malattie che durano una settimana o addirittura anche meno, tante volte anche un paio di giorni e poi lasciano spazio a una salute forte e ancora più. Quindi in questo popolo, gli Unza, ma in numerosissimi altri popoli che ho studiato e che sto continuamente studiando, è molto difficile trovare malattie croniche come la sindrome metabolica, il diabete. Quindi vuol dire che il modello di vita e quello alimentare incidono profondamente sulla salute. Quindi stiamo sbagliando parecchio. Abbiamo un modello di vita in una società molto inquinata, siamo molto sedentari e abbiamo un'alimentazione molto inadeguata rispetto alle nostre esigenze. Questo è assolutamente evidente, lo dicono mai tutti i medici, si sa che siamo troppo sedentari e anche solo raddoppiare l'attività fisica e mangiare vegetali. Non so se hai visto, anche recentemente sono usciti dei lavori bellissimi negli istituti tumori su questo. Sì, sì, comunque è vero, i vegetali dovrebbero avere una parte predominante della nostra vita. Assolutamente, sì. Comunque le superterapie sono... Ecco, dai, le sveli un po' per favore, dottor Bianchi. Allora, diciamo che abbiamo un po' studiato queste tecniche che sono molto semplici. Il bagno di vapore e le zaeta, per esempio... Questo è uno. Poi abbiamo l'ossigenoterapia, cioè l'ossigenoterapia... Potremmo equipararlo, il bagno di vapore e le zaeta, a qualcosa che ha un equivalente anche, ad esempio, nelle saune di alcune culture nordiche o nel bagno turco invece del Mediterraneo? Assolutamente sì. Il bagno di vapore e le zaeta è un bagno umido, quindi assomiglia più al bagno turco, ma le differenze sono tre. Siamo in corrente di vapore, quindi l'effetto è molto superiore, c'è un'alternanza a caldo-fredda, quindi un'alternanza tra vasodilatazione e vasocostrizione, e la testa è fuori. Quindi questi tre fattori lo differenziano molto profondamente dal bagno turco. Ho capito. È la somma degli altri con una differenza che... Il bagno di vapore e le zaeta è molto più potente del bagno turco. Questo è assolutamente pacifico. È più potente, perfetto. Lei considera che i ferri chirurgici in ospedale vengono sterilizzati in corrente di vapore. Un malato dei DS che fa un intervento chirurgico, i ferri vengono poi dati al paziente successivo, ma prima si passa attraverso l'autoclave. Quindi diciamo che questa corrente di vapore è tutt'altro che una cosa banale. È sterilizzante. Quindi questo lo mettiamo, è la terapia principe. Esatto. Tra le dieci superterapie. Ci sono le varie tico di... Che poi lei suggerisce, l'ho letto anche in questo suo secondo libro, Vivere sani fino a cent'anni, consigli, suggerisce anche una sorta di autocostruzione. Sì. Cioè per farlo domiciliare proprio. Sì, ci sono anche queste possibilità. Sia nel bagno di vapore che in altre tecniche c'è la possibilità di autoutilizzarselo anche per casa propria. Bene. Io ho sempre detto che quando tutti i cremonesi avranno un bagno di vapore in casa loro, io sarò molto felice. E posso anche dire che già preconizzo che presto, come 150 anni fa, è arrivato il bagno d'ufficio, di costumi in ogni casa, che prima non c'era, perché il bagno era sul ballatoio, no? Una volta in campagna qualche anziano se lo ricorderà. Noi avremo la stanza benessere. In ogni casa, nel giro di una ventina d'anni, ci sarà una stanza benessere con qualche attrezzo fitness, con qualche bagno di vapore, con qualche altra tecnica di rigenerazione. Lei vede il futuro molto, da un punto di vista, ottimista, molto rosa. Adesso siamo in una crisi. Poi ci spiega anche cosa fa per rinforzare la mente, le emozioni, e per vedere così tutto rosa. Eh? Sicuramente ci sarà anche qualche cosa. Mi baso proprio su questa capacità che dicevo all'inizio del bagno. Il futuro è così nero, il futuro, però sarebbe sicuramente qualcosa di importantissimo, penso. Avere questa capacità nostra di gestirci noi, la nostra salute, di mantenerci in forma con queste piccole cose, gesti quotidiani, di benessere. È naturale che un ragazzo quando torna con la maglia sporca, si sporca la maglia, e poi è naturale rilavarla e farla diventare punita. Quindi questo continuo alternarsi di sporco e di pulito fa parte della... Per pulire bene è proprio questo, cioè... Di ripulirci. Invecchio un po', mi inquino un po' tutti i giorni, ma tutti i giorni faccio qualcosa per tamponare, per riequilibrarmi. Per esempio, bere sei bicchieri di acqua bollente è una delle strategie anticrisi che fa benissimo. L'acqua deve essere superiore ai 60 gradi centigradi. Noterete che... Veramente ustionante allora. Noterete che le dita non resistono nell'acqua, ma la bocca la regge. Questo è un fenomeno tutto da dimostrare. Le dita che hanno un epitelio pluristratificato non riescono a starci dentro. La bocca, che è un epitelio meno stratificato, è fatta per resistere a un'acqua più calda ancora. E quindi noi in questa maniera dilatiamo lo stomaco, l'esofago e dilaviamo tutto, come una specie di tsunami interno, tant'è vero che è considerata una scienza di ringiovanimento. Ma da una delle medicine più accreditate nel mondo, non so se lei sa che la Iurveda è considerata dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, un modello di medicina per i popoli, non solo i poveri, ma anche per i popoli. Attualmente cura circa 3 miliardi di persone, con ottimi risultati. Naturalmente si può integrare poi anche con la medicina farmacologica occidentale. È chiaro. Tra questo atteggiamento un po' spocchioso, che diciamo fino ai giorni nostri la medicina allopatica ha tenuto nei confronti delle altre scienze millenarie, finalmente viene sfatato. Viene sfatato perché l'OMS ha capito, per esempio, che queste medicine naturali sono estremamente economiche. Quindi anche in questa fase di crisi invito a riflettere anche gli amministratori, i politici, sul fatto che queste indicazioni molto semplici, naturalmente strutturate e studiate a livello universitario, possono risparmiare fino all'80% della spesa sanitaria. È viva. È quello che sto preparando in un nuovo libro, che spero verrà pubblicato a breve, perché insomma anche durante la crisi, se noi abbiamo per esempio degli strumenti di cura più economici, permettiamo, non so se lei sa che la regione è Lombardia, il 60% della spesa della regione è la sanità. Quindi insomma sono spese importanti. Lo sappiamo, lo sappiamo. Allora, sei bicchieri di acqua bollente? Sei bicchieri di acqua calda, non bruciatevi. Non bruciatevi la bocca, prendetevi questi sei bicchieri. Ha detto 60 gradi, è bella calda. Sì, è ancora tollerabile, poi ognuno naturalmente se la deve terrare. Dico 60 perché la temperatura, anche io ho fatto igiene ambientale, è quella che deve essere 60-62, la temperatura minima per le conservazioni a caldo, perché è la temperatura in cui i batteri non possono più svilupparsi. Quindi è una temperatura antibiotica naturale. Proseguiamo. Secondo, beh, sicuramente tutte le terapie di lavaggio intestinale, non solo il clistero al caffè o con altri strumenti, ma anche l'idrocolon. Ecco, io questo clistero al caffè bene non l'ho capito. Sì, sì. Perché cosa farebbe di così speciale il caffè? Si usa una bocca di caffè, si diluisce con acqua tiepida caldina. Questo però è l'idrocolon, vero? Questa è l'idrocolon terapia. Voglio ricordare una cosa che molti non sanno, è molto importante. L'idrocolon non soltanto lava l'intestino, inizialmente lava l'ampolla rettale e elimina i fecalomi, ma poi se si insiste, perché nella terapia il lavaggio arriva fino a 50 litri d'acqua, quindi c'è un lavaggio veramente profondo, si arriva alla mucosa di tutto il colon e si comincia a lavare anche un altro organo. Quale? Quale? Lo dica lei. Il rene. Ah sì? Guardi, ho verificato recentemente in una paziente che aveva tolto un rene a cui ho consigliato di farsi, una paziente che aveva scoperto un nostro esame, poi aveva un piccolo tumore renale, è stato scoperto in maniera del tutto preclinica, ha fatto togliere un rene e gli ho detto tu fai tutte le sere un clistere con acqua. La cosa che mi ha colpito dopo 17 anni, questa paziente mi considera un po' il suo salvatore, ma naturalmente ogni medico ha i suoi pazienti affezionati, la cosa interessante è che questa paziente, questa paziente è di Bergamo, è di quelle proprio, le bergamasche proprio molto... Fatto sta che lei tutte le sere, 17 anni, si è fatta questo clistere, l'ho vista recentemente, mi ha colpito vedere che non ha aggiunto una ruga, non è invecchiata, gli esami ematologici sono sempre rimasti perfetti, quindi mi chiedo, la pratica quasi costante di questo lavaggio dell'ampolla rettale è un lavaggio che si può considerare simile anche al lavaggio delle altre mucose, noi ci laviamo i denti tutte le mattine, per noi è diventata una prassi. Adesso non dico, non voglio assolutamente dare indicazioni ad alcuno, perché siamo in televisione, non è che siamo in una visita medica, però posso dire che queste terapie lavorano molto sul drenaggio renale e ho fatto anche degli studi, ho fatto anche delle valutazioni laboratoristiche che dimostrano che l'urina diventa estremamente... dopo che si fa il quarto, il quinto passaggio, perché naturalmente l'acqua continua a uscire e entrare, e poi alla fine il colon diventa praticamente pulito. A questo punto si passa alla seconda fase, cioè il colon che non è un tubo ma un organo, ve lo voglio ricordare, ricordatevi bene che il colon non è un tubo, ma è un organo, è un organo dove ogni punto del colon rappresenta un rapporto con tutto l'organismo, hanno provato addirittura anche a raddrizzare il colon e c'è la proiezione riflesso-terapica di ogni organo, quindi ogni punto che viene lavato viene stimolato quell'organo corrispondente, fino alle meningi, è interessante anche questo studio neurologico, attraverso i plessi dell'Auerbach, sono tutti degli studi che non voglio complicarvi la vita, lavando l'intestino... Ma cosa si percepisce, dottor Bianchi, quando si è... L'intestino si sente leggero... L'intestino si sente leggero... Diciamo la verità, ma ha superato il primo imbarazzo iniziale... E a questo punto il rene, vengono aperte le saracinesche renale, il rene comincia a liberarsi, e quindi praticamente alla fine l'urina, come quando... Provi a pensare quando lava i tanni, la prima volta l'acqua è molto sporca, la seconda un po' meno, la terza un po' meno, alla quinta poi l'acqua è completamente pulita. Come io non ho capito come è entrata in contatto l'acqua pulita con il rene, perché per l'attiguità... Perché quando l'osmolarità intestinale si abbassa, perché l'intestino diventa un organo vuoto, a quel punto c'è un messaggio elettrochimico e anche ormonale al rene, che spalanca il tubolo contorto di stale e quindi apre le saracinesche, come succede in campagna, verso maggio, quando ci sono le piene. Si aprono le saracinesche e quindi c'è come una specie di riempimento delle rogge. La stessa cosa avviene per il rene, per questi tuboli renali, che tra l'altro sono 3 milioni, noi abbiamo 3 milioni di tuboli renali, e vengono tutti dilavati, quindi se una predisposizione a calcolosi, all'accumulo di acidi, di sostanze varie a livello renale, oppure delle malattie, delle tendenze all'accumulo di proteici, ci sono varie patologie anche importanti. All'insufficienza renale, allora. Beh, ecco, naturalmente non parliamo di insufficienza renale, non parliamo di insufficienza renale, è uno stato patologico. È uno stato gravissimo, di cui non voglio assolutamente entrare nel merito in questa sede. Però ci saranno delle fasi che precedono, non credo che un rene entri in sciopero da un momento all'altro. Assolutamente. Anche nei pazienti in dialisi, o comunque nei pazienti che sarebbero predisposti alla dialisi, sarebbe utile farlo. Ancora Ribellese dell'Università di Napoli, 25 anni fa, quando io studiavo medicina, aveva dimostrato che la ricchezza di fibre intestinali pulisce anche il rene, perché se uno ha un intestino più depurato, il rene si alleggerisce. Quindi sindrome metaboliche, ipertensioni, ipercolesterolemie, tendenza agli edemi, gambe gonfie. Se teniamo bene l'intestino, abbiamo già giocato bene la nostra partita per la salida. L'infedemi, anche le varici alle gambe. Ma pensa. Se uno lava i reni, si alleggerisce subito il circolo. Per questo fatto che dicevo prima, noi siamo un network dove ogni stimolo produce immediatamente una reazione adeguata. Capisce? Molto interessante. Quindi anche bere questi sei bicchieri è utile, come è utile lavarsi i denti tutti i giorni. Non è che uno possa dire, io mi lavo i denti oggi. Ma che differenza c'è tra fare un'idrocolon terapia che immagino è difficile che si possa farla quasi tutti i giorni e farsi invece il clistere, quello domestico a casa, come la sua paziente? Il clistere domestico, naturalmente non posso consigliarlo a alcuna persona in questa sede, però, perché naturalmente poi c'è tutto il discorso clinico, se no non esisteremmo noi medici. Quindi non consiglio certamente di fare un clistere domestico qua così. Però posso dire che è uno strumento che nelle mani giuste, al momento giusto, può fare molto bene perché incide oltre che sull'intestino ma anche sui reni. Questo lo posso sicuramente dire. Soprattutto nei pazienti ipertesi, soprattutto nei pazienti dislipidemici, perché lei sa per esempio che i sali biliari si riassorbono, no? Lei sa che la frutta secca era talmente piccola che di colesterolo ce n'era proprio poco, poco. E allora, nell'uomo primitivo, il meccanismo naturale del colesterolo che faceva i sali biliari veniva subito riassorbito. Se noi dilaviamo l'intestino, viene eliminata una parte di questo colesterolo che si ricicla e che quindi produce poi l'ipercolesterolemia in molte persone. Quindi anche la prevenzione della sindrome metabolica passa attraverso questi passaggi importanti. Questi passaggi di idroncolo, idroncolo, terapia. Bere più che mangiare, molta acqua, molti tisani, molti liquidi, spremute, centrifugati. Siamo sempre nell'ambito delle dieci superterapie? Certo. Perché adesso io la devo interrompere per uno stacco pubblicitario di nuovo. Intanto sento squillare il telefono, mi fa piacere che abbiate domande da porre al dottor Bianchi. Lei voleva chiudere questa fase della trasmissione con una domanda. La differenza tra malattia e? Benattia. Adesso qualche medico comincia a parlare di benattia. Noi comuni mortali, sì. Forse l'ho già sentito nelle trasmissioni di mia figlia. Forse qualche telespettatore l'ha sentita nominare, la benattia. Vabbè, vediamo se siete al corrente di cos'è una benattia. Grazie, vi aspettiamo proprio tra pochissimo. Grazie.